Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Il fulcro dell'alta pressione tenderà a migrare verso l'Europa dell'Est, ma allo stesso tempo garantirà ancora stabilità sul territorio nazionale e sul sud Italia, lasciando al margine le perturbazioni. Quindi esisterremo ad una domenica piuttosto soleggiata e con temperature in aumento. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 9 aprile. Al mattino cieli limpidi ovunque, qualche bellatura sulla bassa Lucania. Al pomeriggio cieli soleggiati su quasi tutti i settori, tranne su Basso Salento e Basilicata Ionica, dove potrebbero giungere maggiori velature, ma senza rischio di precipitazioni. Serata tranquilla, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, con punte di 20 gradi nell'entroterra e sul tavoliere. Venti deboli o variabili dai quadranti settentrionali, per quanto riguarda i mari invece da calmi a poco mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli, che ritrae l'incantevole Alba dai mille colori dal porto di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.